e ti ho portato e ti ho portato in questo bellissimo casale faccio male guarda che bello mannaggia bello queste maceve brutte sono il castello di auricarro ci troviamo ad auricarro frazione di palo del colle che però in origine era una cittadina vera e propria nel medioevo tant'è vero che era una dei 32 casali che punteggiavano il territorio dell'agro bitontino ma che cosa è successo nel 1349 c'è in corso una guerra nel regno di napoli tra gli angiò di napoli e gli angiò d'ungheria i bitontini decisero di allearsi con le truppe ungheresi per attaccare il centro fortificato di auricarro che appunto era dotato di una possente fortezza ma era completamente sguarnito il borgo abitato quando quindi gli ungheresi calano sull'abitato di auricarro fanno una strage e riescono anche a distruggere completamente la fortezza che avrebbe dovuto proteggere gli abitanti a questo massacro soltanto la chiesa del crocifisso si è salvata tant'è vero che ancora oggi sull'architrave d'ingresso della chiesa c'è scritto ecclesia sola salva cioè soltanto la chiesa si è salvata dal massacro ciao 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 ciao